Siamo stati davanti a tutto il gruppo, abbiamo regolato l'andatura con i compagni, hanno chiuso sulla fuga, veramente una grandissima squadra che c'è da dire di meglio, ripagarli con una vittoria penso sia stato il massimo. Questa forma per iniziare la stagione è molto bene. Sì, speriamo di tenerla il più possibile, adesso vediamo nei prossimi appuntamenti, comunque ci riproveremo anche domenica, sulla carta è una gara per gli sprint, quindi vediamo di dare il massimo e anche domani di sicuro cercheremo di fare qualcosa con Giuliano. Grazie mille, grazie. Grazie. La strategia oggi era cambiata con la tante iniziale? La strategia iniziale era quella di sentire durante la gara come eravamo messi come gambe, io e Giuliano provavamo a fare la gara, dopo Giuliano ha detto di fare lo sprint, quindi non è cambiato nulla alla fine, purtroppo è rimasto coinvolto nella caduta, se non sbaglio un ragazzo dalla Stana, ma spero che non si sia fatto nulla di male e di sicuro proverà domani secondo me ha grandissime gambe e potrà far bene. Hai battuto Demarieri, hai battuto Ciccone oggi e sogni di Paris-Roubaix, sei davvero completo? Eh, il sogno è grande ma di sicuro è libero a sognare, vedremo, non è facile ma vedremo di dare il massimo anche nelle classiche. Grazie.